Io penso che il mondo abbia bisogno di una vera e propria rivoluzione nel campo di un approccio clinico integrato. Il mondo ha bisogno di lavorare e informare sulla vera prevenzione, sui danni da inquinamento, sui danni sulle carenze nutrizionali, su come funziona il nostro sistema immunitario, di cosa ha bisogno il nostro sistema immunitario, di cosa sta danneggiando il nostro sistema gastrointestinale, cosa sta danneggiando il cardiocircolatorio, il microcircolo. Sicuramente noi funzioniamo grazie all'apporto del giusto apporto di ossigeno, certo, di vitamine, di minerali, ma cosa sappiamo dei danni da inquinamento, delle radiazioni, dei metalli pesanti, delle sostanze chimiche, degli additivi alimentari? Nel campo clinico stiamo lanciando sul mercato una vera e propria rivoluzione. La tecnologia S-Drive, un prodotto in grado, grazie alla lettura, alla scansione del bulbo del capello, di rilevare tutte quelle informazioni in modo personalizzato, centrato, individuale sulla persona, che ti permettono di migliorare l'anammesi. Un professionista, perché dovrebbe utilizzare S-Drive? Perché altrimenti non saprebbe come intervenire in maniera personalizzata. È una tecnologia rivoluzionaria che grazie a questa scansione sul bulbo del capello ti permette di rilevare ed elaborare quei dati che poi vengono messi su un report di 36 pagine, che permette di migliorare la clinica verso il paziente, di capire quello che il paziente ha bisogno per migliorare la qualità della vita. Non è un test di diagnosi, la diagnosi la fa il medico, ma per il nutrizionista e il medico questo è uno strumento indispensabile, che troverete come informazioni e approfondimento su www.sdriveitalia.it per fare il punto sul miglioramento della qualità della vita di intere generazioni.